oh Dario non costa niente sognare e io in quel momento ho detto quest'uomo è un coglione e ho avuto l'illuminazione e ho detto si è educato Dario stai zitto, non hai soldi non sei un cazzo ma tu lo sai che lui è torto quest'uomo è un coglione e era un coglione bene benvenuti in questo nuovissimo 1% podcast in questo nuovo episodio anche oggi abbiamo un super super iper ospite che noi consideriamo ovviamente 1% chiaramente se no non sarebbe qui anzi sono onorato che tu sei venuto ovviamente Dario oggi abbiamo Dario Silvestri e Dario come al solito io lascio sempre la palla sul spiegare chi sei, cosa fai nel mondo che aiuti a fare cose come anche se so parlando prima del podcast che ne hai tante cerchiamo di capire un attimo poi andiamo a sviscerare più nelle profondità innanzitutto Giacomo grazie di questa opportunità sì sono venuto qua Milano è una città che amo ma soprattutto amo le persone che fanno risultati quindi eccoci qua seduti allo stesso tavolo quindi prima cosa lo singato assolutamente vorrei aggiungere qualche zero quindi uno 0.01% questa non te l'aveva ancora detto uno perché un per cento dai è qualcosina che è troppo facile possiamo fare di meglio sono d'accordo a parte questa che una delle cose che come dire che mi chiedono che ritengo più difficile è quando Dario ma tu che lavoro fai prima di tutto mia madre da una vita mi dice ma tu che lavoro fai quindi se non l'ha ancora capito mia madre è forse perché o è difficile da capire o forse perché non lo voglio dire io in ogni caso ci sono tre aree molto importanti diciamo della mia vita professionale una è quella che forse conoscono più persone perché sono un autore di best seller ok questo è un po' lezioso detto così però era tanto per visto che ci sono i libri buttati lì mi occupo di performance nel senso che mi occupo soprattutto di problemi legati alla performance nel mondo dello sport professionistico quindi cerco di sbloccare il potenziale di soggetti giocatori di calcio giocatori di di vari sport ma soprattutto anche di si leve le persone nell'ambito delle delle aziende piccolo spoiler faremo alcuni nomi di quelli che segui si possono fare giusto alcuni nomi senza altro sì o forse no ma comunque ascolta il podcast poi vedrei 100% infatti e quindi mi occupo di sbloccare il potenziale di queste persone sotto vari livelli senz'altro diciamo che vanno sull'ambito piuttosto mentale sulla prospettiva soprattutto della capacità di acquisire o meno anche se nella 99.9% dei casi vengo chiamato per problemi questi non sono soltanto i problemi dei calciatori sono anche i problemi di chi è proprietario di una squadra di calcio quindi ho iniziato a lavorare nell'ambito clinico della performance spostatomi sull'ambito mentale e della performance anche perché le cose non si scostano poi così non sono diametralmente esposte sono assolutamente qualcosa in linea una con l'altra e dall'altra parte poi ho iniziato a lavorare con la proprietà delle squadre perché le criticità le difficoltà e i problemi ovviamente non sono soltanto di carattere legate al gioco assolutamente sì ma sono molto molto più ampi mi occupo anche di negoziazione e mediazione soprattutto in ambiti di grande criticità quindi acquisizioni piuttosto che successioni familiari e quant'altro e diciamo che questa è una delle cose che faccio soprattutto perché mi piace farla e quindi quello è il Dario quello che chiamano il performance coach quello che mentor o quello che è l'autore anzi mia madre mi ha detto hai scritto due best seller ok tu sei uno scrittore più o meno dopo anni va bene quello puoi dire quello che vuoi ma ci sta quello ci ha preso intanto hai scritto due libri vuol dire non è che li hai scritti un costo writer no 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 assolutamente facciamoli vedere il cervello milionario questo me lo devo leggere subito chiaramente e poi se il potere del cambiamento quello più nuovo è questo qui giusto assolutamente sì questo qui tanta roba anche la copertina già fa vedere una bella carta di credito qui diciamo che la copertina è una grandissima cafonata ma perché a me piace ma no perché la replay è una di quelle veramente precise come casa editrice le ho detto no allora facciamo la copertina cafona visto che devo aver venduto abbastanza libri quindi me l'hanno fatto fare quindi grazie alla replay anche seconda parte del mio lavoro e non per importanza e neanche per diciamo risultati in ambito finanziario perché è molto più importante della precedente è quella legata alla formazione formazione non tanto in termini diciamo classici ma una formazione che fa quel matching practical academics che detto così è molto figo ma non si capisce l'università tradizionale è capace di fare corsi molto belli molto importanti con professori molto riconosciuti ma spesso non riesce a seguire i trend del mercato spesso non riesce ad andare in quel gap specifico possiamo dire che molte università sono indietro di 5-10 anni io non mi permetto di dirlo perché sono partner di oltre 50 università quindi non lo posso dire però assolutamente sì anche di 20 o di 30 lo dico tranquillamente allora abbiamo creato delle istituzioni di carattere universitario delle higher education institution dei college verticali che fanno delle cose molto specifiche e agiscono in maniera molto concreta con accreditamento cioè uscite poi con una laurea vera quindi si tratta di istituti universitari internazionali che ovviamente non sono solo in Italia ma sono in giro per l'Europa e anche non solo e siamo in grado di dare dei prodotti che siano disegnati sul mercato disegnati oppure sulle competenze necessarie per eccellere in quella professione parliamo di health sciences quindi nell'ambito della salute abbiamo nell'ambito medico abbiamo molte molte cose in realtà è una delle nostre expertise maggiori da cui siamo partiti poi c'è tutta una parte di innovation e technology ad esempio c'è in lancio un MBA in cryptocurrencies blockchain e NFT che è molto molto insomma tu stai prendendo tutti i mercati che si stanno creando trilioni di euro e stai entrando in quei mercati diciamo che sono gli stessi mercati che conosco perché c'ero dentro come professionista ho capito quelle che erano le esigenze ho incominciato a risolvere quella cosa io già intorno al 2008 mi ricordo facciamo corsi per specifici professionisti verticalmente e poi facevo dei corsi verticali paralleli per professionisti che dovevano collaborare tra se stessi facevo fare collaborazioni partnership e a volte entravo anche nelle operazioni da quello che nasceva e con il giro del tutto ho incominciato ad esempio a investire nell'equity investire nell'equity soprattutto nell'ambito sanitario questa cosa ovviamente è cresciuta con quello che era anche il settore della formazione ho reinvestito nell'equity ho incominciato a lavorare con dei fondi di investimento in cui non soltanto troviamo e strutturiamo quelle che sono delle specifiche operazioni ma entriamo poi percentualmente anche nelle operazioni operazioni molto grandi quindi si fanno con fondi di investimento o banche di investimento che sono dei veicoli per dare un'idea che tipo di operazioni in media vai a seguire? in quantità immaginate di dover acquisire un grosso cento clinico in ospedale piuttosto che una serie di residenze socioassistenziali piuttosto che una parte diciamo di centri clinici e diagnostici all'interno di un paese per un gruppo che sta acquisendo in quel paese non c'è ancora e magari noi creiamo l'operazione ecco questa è una delle cose più interessanti più è un'operazione l'ultima che ti viene in mente che hai seguito che hai curato puoi dire una una cifra tanto per dare una cosa più pratica allora una cosa che ho detto al tuo assistente è che normalmente non parlo di numeri ok non si può parlare di numeri ma no non è che non parlo di numeri perché non mi sono mai sponsorizzato parlando di numeri infatti non troverete mai io ho fatto questo io ho guadagnato quello io semplicemente non lo dico perché ci sono strutture finanziarie che sono costate milioni di euro ci sono diciamo dinamiche soprattutto legate all'ambito strategico anche semplicemente chi mi segue sui social difficilmente vedrà delle stories in cui dico io oggi sono qua in questo momento sono a fare questa cosa quando nei social ci interfacciamo con quel tipo di contemporaneità e immediatezza in realtà perché possiamo fare sapere a tutti quello che stiamo facendo questa cosa io non l'ho mai fatta l'ho mai fatta perché mi piace come dire curare un'operazione strategicamente finché questa viene portata a termine c'è tanta gente che ci segue sicuramente Giacomo e tanta gente che ti segue per vedere cosa combini e a me è capitato anche di acquisire informazioni dai social che non avrei dovuto sapere che le persone soltanto per ego personale quindi il fatto di non fare cifre semplicemente spesso è per non flexare ma soprattutto perché non è necessario per rendermi più ricco anche perché quelle persone che le ascolterebbero probabilmente non mi farebbero fare quel tipo di operazioni è una delle cose che funziona maggiormente nel mio ambito che va dal calcio professionistico di serie A di membership inglese fino a lavorare con le proprietà o lavorare nell'investimento dell'equity nell'ambito sanitario nella formazione universitaria come anche in altre aree tipo l'investimento in alcune early stage start up del biomedico che è anche spesso la confidenzialità la capacità di non anticipare determinate informazioni è una delle parti che ti fa fare le cose e rende l'operazione molto profittevole una fuga di informazioni può diventare immagino anche che poi se rendi pubblica magari le informazioni anche dopo 3-4 anni magari comunque perdi credibilità sulle nuove io invece potete trovare dappertutto che sono noto per la capacità di confidenzialità e non ho mai avuto una fuga di notizie questa è una delle cose e tutte le persone che lavorano con me sanno che possono dire qualunque cosa e quella cosa semplicemente non circola e questo è molto importante trovo invece persone molto deboli e spesso ve lo dico sono le persone che non guadagnano tanto e non perché non guadagnano tanto lo dicono ma spesso chi è poco di confidenzialità e privacy raramente è capace di sviluppare buoni business nel senso una di quelle caratteristiche un'altra caratteristica te la vorrei condividere delle persone che non riescono a farcela perché molti mi dicono mi dici le caratteristiche le abitudini delle persone che sono realmente forti a fare guarda ti dico prima di tutto una che azzera le tue capacità sai che mi piace molto perché anche noi nel marketing una cosa che facciamo è mostrare prima sempre gli errori perché se non sistemi gli errori non sai cosa non fare è inutile che sai cosa fare in molti casi 100% concordo scusami ti ho interrotto è molto interessante volevo un attimo aggiungere questa parte qui quali sono queste cose queste cose da non fare questa c'è una cosa che è distruttiva al 300% nel tuo mercato nel mio mercato nel mercato di tutti negare l'evidenza se tu non è come dire se tu non conosci non sei consapevole di quello che hai se non capisci quello che è intorno se non capisci le dinamiche produttive o anche di sinergia o anche distruttive che ci sono all'interno di un mercato ma soprattutto all'interno di te stesso non hai una possibilità di farcela sono quelle persone che dicono ad esempio e ne avrei viste tante tu magari hai un cliente un futuro cliente dici guarda te lo dico gratuitamente voi avete questo questo e questo che non funziona quando ti dicono ma non è vero in realtà siamo bravi a fare questo funziona sempre lo abbiamo fatto da sempre sta negando l'evidenza tu sai che oltre a non portarti denaro o magari portatelo non ce la farà e questo funziona nelle relazioni interpersonali all'interno del contesto familiare all'interno del marketing all'interno delle vendite negare l'evidenza è incredibile anche il venditore il venditore tu che sei un esperto di vendita nel senso che sei un sale prima di tutto come dire in your passion e poi dall'altra parte chi è fa training a chi è crea nuovo valore in questo senso quando hai qualcuno che inizia a fare uno sport io questo l'ho imparato nel calcio di serie A il calcio di serie A una volta mi hanno detto è uno sport di alibi pensavo si giocasse con le gambe invece poi c'ho ragionato questo era il direttore sportivo è una squadra importantissima è bellissima questa e mi ha detto uh hai ragione è uno sport di alibi perché io mi trovavo a parlare magari con un presidente che era perché guardate a me è capitato di fare qualunque cosa tipo presidente incazzato che mi dice dobbiamo mandare via l'allenatore parlaci parlaci per risolvere la questione perché era no perché deve andare via ma non gli vogliamo dare i soldi capito piuttosto che perché nel calcio poi ci sono un sacco di questo tipo di di sfide incredibili e ti trovi in quella condizione della gente che trova un alibi non è colpa del direttore sportivo non è colpa del giocatore non è colpa della proprietà non è colpa del vicepresidente e alla fine poi tutti chi gioca a calcio poco pochissimo tempo perché poi i giocatori di calcio attuali si allenano molto meno tempo di una volta anche per un fatto fisiologico e biomeccanico correttamente legato il recupero però il calcio è poi quello che rimane poi togli media togli la comunicazione togli le cose togli il gossip c'è poco ci sono quei 90 minuti c'è un'ora e mezza di gioco al giorno ma poi stringi stringi rimane poco negare l'evidenza per un venditore ad esempio no è il prodotto che è scasso no non mi hanno dati le informazioni giuste è il cliente che non mi aggiorna non aveva il mindset giusto il cliente non tu ma il cliente questo è incredibile non hanno studiato bene il mercato e tu sai perfettamente che invece quando dai un prodotto a qualcuno da vendere perché l'hai studiato e sai che può funzionare certo ecco alibi negare l'evidenza e in realtà è una cosa che funziona se tu sei consapevole di qualcosa puoi cambiarlo se tu non sei consapevole di qualcosa non puoi cambiarlo io sono un fissato del cambiamento il potere del cambiamento è perché io sono un fissato del cambiamento nel senso che il cambiamento è un po' un argomento un po' diciamo per tutte le stagioni avrei detto una troia molto ortico in Italia avrei detto una troia ma non l'ho detto ok e la verità è che mettiamo il bip o non lo mettiamo no no io mi bippo nel podcast assolutamente noi non bippiamo niente e la verità è che perché il cambiamento fa parte di tutti noi ma il cambiamento è quello attivo quello passivo quello che devi fronteggiare perché cambia il mondo quello che devi fronteggiare perché cambia qualcosa nella tua vita che non volevi che cambiasse quello che devi fronteggiare perché cambi tu e non vorresti cambiare perché funziona anche quello quindi noi siamo esseri umani fluidi c'è un mio mentor perché tra l'altro lo faremo vedere credo nel prossimo nel prossimo episodio Mattia oppure non mi ricordo uno dei nostri mentor uno dei miei mentor ci sto parlando dovrebbe essere metà novembre quindi uscirà dopo di questo episodio comunque rimanete in linea perché uno dei miei mentor lo riveleremo e in ogni caso anche lui tra l'altro fa molte cose anche complementare le tue e lui dice parla sempre di molto di cambiamento perché quando vai dagli imprenditori e vedi che l'attività è il limite della loro mente come io so che la mia attività non cresce c'è un break point come li chiamo io break point break point break point vuol dire che io ho un limite in qualche modo un limite e ci sono quattro A che mi insegna questo mentor che sono prima di tutto consapevolezza poi mi dici quali sono questo mentor non a loro a te sì in background comunque c'è la prima A acknowledgement scusami il mio inglese vedo che è il tuo perfetto e poi c'è scritto accept secondo accept ho vissuto buona parte della vita all'estero fantastico vedrai la mia intervista con lui quindi mi correggerà anche l'inglese ok quindi abbiamo detto che non è italiano ed è un english speaker è americano è americano questo te lo posso dire americano e poi c'è quindi accetta e poi c'è agisci e attacca quindi prima devi essere consapevole che hai un problema secondo accettarlo come? no quando l'ha scritta questa cosa quando l'ha scritta ma credo che l'ha dicata un po' sinceramente un po' no perché c'è un pezzo del libro e non so chi sia stessa cosa sì allora lui segue molto John Maxwell quindi non so probabilmente un po' una corrente comunque questa parte qui è abbastanza noto è abbastanza noto esatto e quindi prima di tutto devi comunque sapere che hai un problema secondo accettarlo perché poi agire e quando capisci come agire velocizzare l'azione è più facile ma le prime due sei d'accordo con me almeno credo sì c'è anche la decisione più che altro c'è un'altra ti aggiungo ti aggiungo una P che è il perdono nel senso che dopo aver accettato cosa è successo non perché sia un fatto passivo ma perché devi accettare la realtà per cambiarla devi perdonare te stesso perché il 99% dei casi hai fatto degli errori ti stai criticando profondamente ci sono due grandi motori trainanti che spaccano i tuoi risultati uno è la paura del fallimento due è il senso di colpa nessuno parla del senso di colpa perché è una cosa poco da poco ganza poco figa poco attraente invece il senso di colpa ti fa fare lo stesso che con quale tua moglie ti fa fare esattamente quello che vuoi o mia moglie e la paura che unitamente la paura del fallimento è incredibile e poi abbiamo come dire un testamento del passato che la paura del fallimento per gli uomini maschi di genere maschile o come dire che si ritengono tali la paura del fallimento è una delle cose con cui vieni cresciuto tuo papà ti dicevi se non fai questo sarai un fallito devi trovare una professione devi essere bravo se no gli altri ti mettono invece le donne dicono ho presunto un dettaglio che si ritiene tale no sul serio e se fai questo poi ti criticano se fai quest'altro poi sei una donnaccia quindi il senso di colpa mani e piedi legati ora però è molto più equilibrato l'uomo ha anche il senso di colpa e anche la donna ha la paura del fallimento quindi siamo alla pari tutto iperequilibrato tutto all'ennesima potenza soprattutto in questo caso l'inculata nel senso e questa roba finché tu sei ingabbiato qua è come se tu vivessi in una sintonizzato sulle AM presente FM AM e tu sei sulle AM sei sintonizzato su una lunghezza d'onda che non è la tua tutto non funziona quindi lavori per paura di qualcosa o per evitare la paura di qualcosa e dall'altra parte cosa fai anche non fai altro che cercare di assecondare gli altri per essere accettato non umiliato non trattato ingiustamente non rifiutato non abbandonato pam 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 e alla fine cosa succede succede che vivi una vita che è distante dalla tua non fai un cazzo questo molto importante e non fai mai che poi anche non è mai la tua priorità a te stesso e invece quello che dobbiamo fare è sbloccare quell'area cioè dobbiamo dire ok aspetta effettivamente non ho nessuna colpa la paura ok ma fallire non è un problema il problema è andare in quella direzione ti avvicini a te stesso e scopri che forse puoi andare sulle FM puoi switchare su quella lunghezza d'onda e a un certo punto a un certo punto puoi decidere realmente qualcosa per te e entri in contatto col tuo potenziale e scopri che hai un potenziale perché nella vita cosa ti dicono questo ego vola basso piscia corto fly down siamo cresciuti sul stai calmo non esagerare ma chi ti credi ed è bello quello che dici mi ci rivedo veramente tanto perché da quando allora io sono cresciuto che sono io sono un driver come te no probabilmente sono quello che vuole fare sempre di più è il primo della classe io volevo arrivare sempre prima studiavo le materie che mi facevano cagare per arrivare primo e basta volevo essere il primo voglio essere il primo oggi voglio di tutto voglio tutte le aree della vita fino a 18-20 anni ascoltavo quelli intorno a me che mi dicevano ogni volta che provavo di fare qualcosa oh bah sono sempre Giacomo di qua stai giù stai chi te lo fa fare ma non andare oltre ma lasci quando abbastanza è abbastanza alla fine ho detto ma che cazzo me ne frega di questo verso 23 22-23 anni ho cominciato a cambiare a switchare studiando perché questa voglia di crescere non c'era ho cominciato a incularmi intanto parolaccio puoi dire vaffanculo vaffanculo a questo qui dico vaffanculo nei miei eventi questa è una cosa che poi dobbiamo fare un evento a questo punto piccolo altro spoiler un vaffanculo serio io penso che per caricarmi e stare in linea con tutti successo a Lisbona con un gruppo incredibilmente figo di ragazzi fortissimi sono stati 2500 persone sedute la prima cosa che dovete fare mi dite un bel vaffanculo perché se io non mi faccio mandare almeno vaffanculo da 2500 persone in presenza o migliaia online non mi carico abbastanza quel vaffanculo non è un vaffanculo a me ma è un vaffanculo a quelle abitudini a quelli che ti hanno detto che non ce l'avresti fatta a quella paura a quel senso di colpa a un certo punto devi scaricare del peso io ho una si chiama teoria del vacuo del vuoto di mister D mister D sarei io praticamente a un certo punto sì esatto ad alcuni piace chiamarmi così altri mi chiamano doc alti da rione quello che vuoi insomma la verità è che per fare e acquisire qualcosa nella vita di nuovo devi fare spazio nella tua vita quindi devi creare il vuoto se no è come se tu avessi un appartamento pieno di immondizia no? e a un certo punto dici cavolo voglio fare entrare qualcosa di buono prima c'è puzza e secondo non c'è spazio quindi o porti fuori l'immondizia o ti attacchi a cazzo qual è quel libro One Minute Manager che dice quella cosa cinese per sistemare la casa e quella era Marie Kondo credo però bullshit ok bullshit quindi tutte cazzate no nel senso Marie Kondo è una figa lei ha venduto tipo 100.000 milioni di libri è una riorganizzatrice è quella che il nuovo concetto sai dell'ordine il fatto del dare un senso alle cose del salutare le cose che non ti hanno già una liturgia del distacco è un genio è assolutamente un genio però questa ad esempio nei libri io non faccio citazioni cioè perché quindi copia non citi no no perché i libri fatti con la citazione bella paragrafo rielaborazione di un pezzo di Tony Robbins poi quell'altra cosa poi ci metti un pezzo di Tony Robbins ne abbiamo visti tanti poi fai madonna mia ne fai un altro pezzetto io non ci sono citazioni perché l'ho scritto io il libro punto hai ricreato tutto quanto come me allora io dico non ho mai inventato il marketing che le 20 non le ho inventate io una cosa che ho fatto un 20% l'ho inventato io di quello che ci ho messo dentro sicuramente magari un 50% di quel 20% l'avevano già fatto certo ma non in quella maniera non adattato non in italiano e il framework è l'ordine è il modo in cui fai le cose le spieghi le chiami che fa totalmente la differenza quindi quali citazioni devo mettere quando copio e incolle uguale cito se c'è bisogno chiaramente anche io ho pochissime citazioni siamo molto allineati su questo proprio per lo stesso motivo io non miro devo leggerlo ancora devo leggere quello minorale è zero ok e poi in realtà dobbiamo spoilerarvi stiamo per fare un circolo il golden circle dei pelati bellissimo siamo io Giacomo c'è Jeff Bezos ovviamente Jeff Bezos e tre che si allenano con me stavolta io sono andato a allenarmi le sei in palestra arrivo io sono pelato con la barba come te arriva il secondo c'è anche quello di Brazzer comunque quello di Brazzer c'è anche quello lì c'è la categoria bold comunque detto questo ti chiedo una cosa perché è bello parlare andiamo avanti 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 fantastico ti chiedo fare un passo indietro tu hai un expertise incredibile molto di quello che hai detto l'hai in video sono sincero sono molto sincero e hai solo sei anni più di me hai sei anni più di me come dicevi prima non si vede l'età perché siamo pelati quindi si vede poco quello che ti voglio dire da dove sei partito diciamo dammi in tre minuti quattro minuti la tua storia come hai fatto prima hai anticipato qualcosa insomma prima l'hai fatto tu come professionista ma da dove sei arrivato cosa hai studiato cosa ti ha portato a investire a gestire operazioni di private equity anche importanti poi anche nel senso che quando erano scarse non si chiamavano non mi hai detto le cifre quindi non so è relativo ti posso dire che no nel senso che ti posso dire che quando erano scarse non li chiamavo di private equity ho comprato un centro era un po' più così ok ok ho rilevato quel centro fallimentare un po' più ridimensionato allora più che altro ti do delle noti salienti che possono interessare a te che ci stai ascoltando che ci stai guardando anche perché passaggi divertenti mancano allora la cosa divertente è che non è tanto divertente io sono nato a Parma da genitori napoletani come spesso come dire in meridione si gira molto per il lavoro e quant'altro e poi sono cresciuto in una cittadina che devo dire così particolare si chiama Asti magari qualcuno la conosce e poi da lì diciamo che non avevo molti stimoli ecco cosa intendi per particolare particolare ma Asti no non faccio delle statistiche ma poi ti dirò le statistiche positive di Asti perché non voglio adepaoperare una città che già che già diciamo rincorre la positività ecco cerca di migliorarsi questo non mi piace abbattere chi cerca di migliorarsi quindi assolutamente no e cerchiamo di migliorarla però non sono tornato per più di vent'anni questo è già saliente io un giorno sono andato via nota divertente sì driver ok però io all'ultimo anno del liceo scientifico credo di aver fatto quasi 100 giorni di assenza io ero già in uno stato mentale che ero già andato via praticamente già volavi una famiglia non particolare non lo so ma non ero lì praticamente non perché avessi diciamo delle qualità particolarmente eccesse ma secondo me non avevo nulla da perdere questa è stata una delle caratteristiche fondamentali più belle della mia vita soprattutto non avere nulla da perdere all'inizio e fare un all-in più volte perché partendo da poco è facile fare all-in considerate che io ho fatto circa 13 anni e mezzo 14 lavorando 7 giorni su 7 non vi dico quanto era il giorno ma se ho lavorato 12 ore era niente ok se ne ho lavorato ti sei pentito di questa parte qui no bellissimo assolutamente mi ha dato la struttura cosa ne pensi quando perché io dico molto spesso per farti capire 41 settimane all'anno 7 su 7 ma di lavoro con le persone vuol dire che in quelle altre come dire 11 settimane ti garantisco che io non sono un fan del Natale adesso vabbè con figlie uno è un pochino più fan per quello ma per il resto per me è sempre stato bullshit anche perché vengo da una famiglia che non è particolarmente supportiva una famiglia disgregata non ho mai avuto dei riferimenti cioè all'interno del mio contesto familiare non ho mai avuto riferimenti mio padre visto poche volte parlate meno mia madre col suo percorso ai fratelli o dei diciamo sì assolutamente perché per molto tempo come dire anche se non non ci sono stati non ci sono cresciuti assieme comunque sono fratelli diciamo soltanto dalla parte di mio padre non ho diciamo condiviso tante cose per tanti anni poi abbiamo condiviso anche delle cose sono persone a cui rispetto che voglio bene ma che che onestamente diciamo insomma se ti dovessi dire che proprio la texture familiare è un'altra cosa nel senso perché posso dirti che quella l'ho avuta dopo l'ho avuta da persone che sono arrivate dentro la mia vita sono persone che ci sono volute stare e mi hanno aiutato a capire cosa voleva dire essere famiglia e viceversa sono persone che io ho una struttura un pochino diciamo molto dinamica sotto il profilo familiare non è tanto quella del sangue per quanto io abbia una famiglia molto numerosa tantissimi cugini e quant'altro però se ti potessi dire quanto è stata importante la famiglia nella crescita per mettermi quella di sangue è stata importante per mettermi alla prova certo per insegnarmi magari quella che tanto l'ha spinta sì insegnarmi a non avere paura di certe cose e insegnarmi che da solo avrei potuto farlo perché quando non hai supporto la lettura dall'altra parte è impara a essere forte impara a farlo da solo tu puoi farlo anche perché dall'altra parte io sono nato abbastanza ottimista e quindi anche se succedeva qualcosa di brutto io mi ricordo la mia infanzia non particolarmente divertente io faccio una cosa a proposito di Maxwell che era una sorta di visualizzazione io quando avevo sei o sette anni immagina situazione proprio male male io andavo a dormire ovviamente non era facile dormire in quelle condizioni allora guardavo il soffitto e mi inventavo una vita buona che avrei avuto una vita buona a vision inventavo proprio una visualizzazione di cose della mia vita positiva che poi è una cosa che adesso è andata molto di moda io la faccio già sei o sette anni in maniera si chiama sopravvivenza però la sopravvivenza poi quando la porti a un certo livello con un certo tipo di commitment di dedizione diventa successo i risultati e quello senza l'altro è stato il kickstart e qui tu sei andato sono scappato in Svezia dopo la scuola eh sì sono scappato subito praticamente sono stato un po' in Italia poi sono scappato un po' in Svezia perché la Svezia? la Svezia perché era un posto incredibile no in realtà ero ero in un campeggio in Francia e tu sai perfettamente che vieni da città di vicino a città di Castello che non è che avevi le ragazze che ti inseguivano credo proprio a città di Castello no 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 e nemmeno da fuori no ma dico normale no assolutamente e c'erano queste ragazze bellissime carinissime a cui piacevano questi tamari meridionali un po' l'italiano meridionale e diceva ma donna mia quanto è bello quello ho detto questa è una nicchia una nicchia incredibile per me inesplorata esatto allora ho detto andiamo a visitare questa tipologia di audience sono stato un pochino meno di un ah sì un annetto guarda parlucchio ancora un po' lo svedese nel senso che non quanto lo parlavo allora però diciamo lo capisco mi so esprimere con qualche uno dei calzatori che segue Ibra per caso no 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 per quanto ci sono passato anche da Malmo come tu sai Ibraimovic non ha bisogno di nessun mental coach e lui il mental coach no lui mangia i mental coach garantisco che è vero nel senso sicuramente non ne ha bisogno se c'è qualcuno che dice io sono il mental coach di Ibraimovic sicuramente va a casa sola a mazza di bocci e farebbe anche bene e dall'altra parte poi sono andato in Inghilterra perché mi ero annoiato della Svezia perché era un po' troppo politicamente corretto tutto pipipi molto carino poi era buio se fa buio presto in Svezia ma anche in Inghilterra se posso dire la verità ma anche in Piemonte non è male anche che a Milano diciamo esatto però a Milano fa più freddo e c'è più umido giusto perché si dice così sempre e devo dire la verità che da lì vi voglio dare dei notti salienti decido di fare un percorso di laurea lì faccio delle cose però mi dovevo mantenere allora molto divertente facevo una cosa che è una delle attività non sono mai stato tagliato per fare il cameriere perché diciamo che dopo 4-5 ore di fare il cameriere avevo già delle idee del non funziona qua dovremmo fare così e quindi immagina dire un manager se è appena arrivato un pivello di 19-20 anni capirai il manager lì ristorazione dici guarda che sono venuto qua quando tu ma secondo me se dovessi fare così vedi che se gli parli così non funziona così e dice ma chi ti credi e ha detto vabbè noi lasciamo stare allora leggevo le carte leggevi le carte veramente leggevo le carte a Covent Garden e tiravo su anche un bel po' di pounds sterline assolutamente più di fare il cameriere più di fare che mi immaginavo diciamo che in una giornata potevo tirare su più che una settimana di fare il cameriere assolutamente e questa diciamo viene un po' dal talento anche di conoscere i bisogni delle persone le paure delle persone e di aver avuto un sacco di paure infatti una delle io dico spesso I'm a man on a mission cioè io sono in una missione io prima di tutto superare le mie paure superare il mio limite superare quelle catene fatte di paura di condizionamenti di traumi di ferite ma puoi farle superare anche gli altri quindi condividere il più possibile e a me piace creare un ecosistema intorno a me un environment bello positivo ma non che deve essere sempre tutto bello perché potresti c'ho centinaia di collaboratori molti ti diranno cazzo Dario Silvestri come dire quando si incazza è una ma io non me ne accorgo quindi sì però quello lì è un problema una tanto ma in generale l'ambiente a me piacciono le persone a me piacciono e a me piace aiutare le persone supportare le persone che ho intorno a migliorarsi e molte volte mi è successo di aiutare e supportare a migliorare il percorso delle persone poi hanno fatto cose loro sono andati via e sai che la verità io ho anche investito in società di altre persone che prima lavorano con te e ci ho anche fatto dei soldi assolutamente sì perché la gente è anche brava non puoi pretendere che le persone siano la retention tu spesso parli di retention dei talenti giusto devi dargli di più devi fare di più nel senso e poi a me una cosa che vorrei condividere con tutto il mondo che il miglioramento è contagioso è la verità che è tutto legato allo human factor cioè ma veramente nel senso voi potete fare prediction forecasting cazzi e mazzi diciamo ma è tutto come le persone sì ma tu puoi fare lo sai non è l'azienda che fa le persone sono le persone che fanno l'azienda ma sì infatti una volta si parlava molto di missione che è importante di visione importante e poi vedevi tutte le aziende che avevano questi due milestone e poi sti cazzi nel senso bravo nel sito web nel non paese copia e incolla e poi ho scoperto che c'è un altro modo inglese quindi scusatemi per l'anglicismi perché poi sotto i commenti youtube dicono c'è solo parole in inglese attenzione scrivetemi e dite ok potresti dirlo così e la prossima volta ve lo dico così giuro però a volte suona un po' sfigato certe cose in italiano però sappiate c'è qualcosa che non si traduce fa schifo comunque la cultura aziendale ma volete mettere company culture come suona bene però lo so dire cultura aziendale la cultura aziendale è come io mi comporto con te è come tu ti comporti con me è come ti comporti e perché vuoi comportarti in quella maniera e le aziende adesso quelle soprattutto che sono che sono in linea con questi mercati lo sanno bene lo sanno molto bene lo fanno anche molto bene a me capita a volte di perché io ho questa fortunata prospettiva dell'essere un imprenditore che deve acquisire deve comprare deve costruire perché io faccio anche molto da zero from the scratch quando compri una delle cose principali che vai a vedere è lo human resource voglio dire vai a vedere le risorse umane che ci sono io prima cosa non vedo devo definire la veridicità del mercato prima cosa no chiaro se no non compri me poi sì però molte volte quando tu acquisisci una struttura mantieni dei pezzi ma non tutti nel senso questa è una cosa importante oppure hai delle strutture che sono in supervisione di alta ad esempio devi mettere un CFO punto chiaro cioè non puoi come il management precedente sta ancora due anni quasi in tutte in qua a meno che non ci siano delle modifiche strategiche a volte dura soltanto un anno quel processo di come dire di trasformazione a meno che non ci sia una profonda trasformazione aziendale quello che piace a me perché ho iniziato ovviamente con fondi che erano limitati era comprare robe che avevano potenziale ma erano molto al di sotto il loro potenziale io vedevo il potenziale allora lì non è solo il risorso umano c'è il potenziale mercato licenze persone non hanno un modello devo far conoscere il mio mentore perché lo ho fatto non abbiamo un modello e tu dici ok no no non vi preoccupate state andando così ok vi prendiamo noi ma come ci date questo sì voi seguite e lo facciamo insieme è una cosa dall'altra parte invece quando come dire avevano finanze diverse e anche la possibilità di essere supportati da fondi terzi quello è ovviamente prima di tutto si fa un'analisi carattere finanziario poi si fa un'analisi parallelamente di mercato poi si fa un'analisi carattere legale perché ovviamente è molto importante perché ci sono tante aziende che poi hanno problematiche carattere legale che sono in pancia poi una cosa che bisogna analizzare sono i contratti perché sono stati fatti i contratti perché molte volte quando vedi dei contratti molto importanti soprattutto di servizi dietro ci sono delle dinamiche di esseri umani che hanno amici esseri umani che sono stati portati a fare delle scelte sbagliate oppure cose e quindi quello è molto molto importante da definire e gli esseri umani se tu trovi dei talenti anche solo delle persone che sono buonine tu puoi fare tantissimo ma senza risorse umane tu non fai nulla quindi l'essere umane tutto il tempo che tu percorri e spendi con gli esseri umani il fatto che di stare seduto allo stesso tavolo con un tuo collaboratore con una persona che non conosci qualcosa che non sta producendo del denaro in quel momento stai sbagliando se pensi che non stia producendo quella è un pilastro se devo dirti la verità le più grandi opportunità finanziarie che ho avute e anche opportunità di carattere strutturale in ambito commerciale sono venute da azioni disinteressate che ho fatto non sono state perché quello della sì ci sono tantissime cose che segui che poi diventano soprattutto nell'ambito delle PR in ambito molto più più globale però a volte le cose tornano soltanto che un concetto stupido che ritengo molto sui esempi sono contro due concetti di base il modeling e la reciprocità il modeling fatto e inteso come the seven habits cioè le sette abitudini del Stephen Colby no perché il problema qual è molto profondamente è che tu vai a scimmiottare qualcuno che si alza alle 5 di mattina morning ritual come si chiamava miracle morning io ho provato mi ricordo anni fa mi sono incazzato stavo per ammazzare il mio amore sai che c'è un relic dove io invece dico che mi alza le 5 e mezzo è andato un milionario milioni di solitozioni sì ma la differenza sì ma è ok c'è una parte ognuno è il suo nel senso c'è la narrativa certo questa è una narrativa positiva devi capire in che fase sei della vita in che fase sei della crescita in che fase quello in che contesto era te la rilancio certo il problema è che tu modellando queste persone stai imbuttando del fumo negli occhi della gente che non sa che rifacendo quelle abitudini non diventano ricchi e non diventano neanche più efficaci perché quello che voglio è che tu diventi una bomba potenziante di come sei fatto tu a volte i ragazzi giovani perché sono a volte più interessati a trovare schemi noi mi dicono ma dovrei alzarmi prima dovrei fare quello e faccio quante ore lavori alla settimana 100 ti svegli alle 10 di mattina ma sai quanto cazzo me ne frega che ti svegli alle 10 di mattina ho detto perdi molte opportunità svegliandoti alle 10 di mattina non lo so ho detto verificalo ma se questo non è vero ci sono persone che sono spostate su fusi orari io lavoro su tre fusi orari diversi e vai a capire quando ti svegli io faccio quello che bisogna fare questo è necessario poi mi capita di svegliarmi alle 5 di mattina sì però mi capita anche di andare a dormire alle 5 di mattina perché devo finire sì sempre di meno e ho più tempo non lo so nel senso che se mi fai la domanda ti diverti comunque nel tempo che sei sveglio tantissimo tantissimo questa è una cosa che mi piace tantissimo io sono gasato certo mi piace tantissimo quando mi sentivo è brutto dividere il tempo libero da quello lavorativo io quando mia figlia mi dice tu vai al lavoro papà non vado a divertirmi come quando tu vai a scuola a giocare con gli amici è la stessa cosa se hai figli sai perfettamente che quando vai a lavorare soprattutto se hai figli piccoli probabilmente stai andando a prendere un respiro di sollievo sì sì un pochino sì anche perché mia figlia dico sempre ha bisogno di me di quelle due ore al giorno poi mi manda a quel paese dopo un pochino papà devo giocare vattene sono anche lavorato in psicologia ma non sono un pedagogista quindi non però so che dei pedagogisti ci stanno guardando e sappiamo che non è vero Giacomo lo dice per un fatto istintivo ma non sta promuovendo nessun tipo di cattivo comportamento non vi preoccupate è sotto controllo comunque detto questo eri in Svezia per quella cosa lì giusto quindi poi in Inghilterra poi in Inghilterra poi in Inghilterra incomincio perché in Inghilterra vai in Inghilterra in Inghilterra perché era un pochino esatto prima Bazzico nel Kent nel Kent era veramente tremendo poi vado a finire a Londra università cartomanzia altro incomincio a diventare anche capacino nell'ambito dello sport professionistico faccio dei salti nell'ambito proprio del calcio ma dove acquisisci le tue competenze quelle con cui adesso segui perché so che se lo stanno chiedendo certo magari posso ipotizzare ma dove acquisisci le competenze con cui oggi segui e hai cominciato a seguire anche al tempo atleti professionisti allora tu immagina scusami atleti solo calcio o anche altri sport allora io parto dagli sport da combattimento passo come a fare pratica infatti devo ringraziare sempre uno sport che mi ha fatto fare tantissimo pratica dal punto di vista corporeo non come atleta ma su diciamo sulla biomeccanica delle cose che è rugby perché mi ha consentito lì ho trovato persone che volevano realmente rimettersi in piedi giochiamo al discorso fisico mi sono attestato diciamo in maniera molto concreta e molto pratica sull'elite calcio perché perché il calcio ti fa guadagnare due cose denaro e posizionamento non c'è cosa è un po' come il football americano l'empie negli Stati Uniti semplice non c'è altro sport dove sei mercato per me il calcio è stato uno degli elementi pivotali nelle mie pubbliche relazioni sono riuscito a fare delle cose che gente che veniva da famiglie importanti gente che di generazioni grazie al mio background nel calcio la mia conoscenza nel calcio a fare delle cose che non sono riusciti a fare loro ok banalmente conoscenza dell'inglese se potete imparare l'inglese imparatelo è perché è proprio la base se potete imparare altre lingue tu come hai imparato l'inglese? ma io ero già guarda ero già abbastanza amante delle lingue stranieri in generale da piccolo nel senso mi piaceva abbastanza poi chiaramente uscire all'estero ti ha aiutato andavo a fare il cameriere quando avevo 15 anni già ero in Inghilterra 16 anni dai a fare quello andavo a fare il mezzadro nel senso io sparivo una cosa buona non hai supporto familiare bene ma dall'altra parte hai qualcosa di molto interessante hai la libertà di poter andare via nessuno ti dice Dario dove sei? ah Dario ecco dove sei? cioè diverso due o tre settimane dopo e questo mi ha portato a poter fare molte esperienze infatti per quel periodo della vita per un gran periodo una delle cose che ho fatto di più è viaggiare ancora adesso io sono un inizio da circa 100-120 voli all'anno più o meno tipo una e quanto è stato determinante uno da uno a dieci viaggiare per quello che stai facendo adesso due la lingua allora la lingua è stata imparata ed è diventata qualcosa di fondamentale soprattutto viaggiando poi ho imparato altre lingue tipo il francese nel senso che uso poco ma è una cosa impari a esprimerti tante lingue lo spagnolo il portoghese lo svedese nel senso poi il svedese l'avevo dovuto come dire imparare anche un po' realmente a scuola viaggiare è un detonatore dei tuoi potenzialità anche perché incontri persone ti metti in cattive situazioni ti metti in buone situazioni ti succedono cose capisci com'è il mondo secondo me sì infatti chi è discriminante chi ha atteggiamenti discriminatori chi è un razzista che è semplicemente che non ha visto molto in giro ecco sono d'accordo sono d'accordo bellissimo super spot per noi allora se ti sta piacendo questo contenuto è il momento di fare il prossimo passo il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di tre giorni a Rimini codice 1% la prima volta che lo faccio ti assicuro che ti cambierà la vita se sei un dipendente professionista imprenditore qualsiasi posizione tu abbia cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta è il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo clicca qui quindi tu hai cominciato a seguire questi calciatori mi hai detto in Inghilterra sì e prima erano inglesi quindi o italiani svedesi inglesi sì diciamo un po' non italiani no italiani no assolutamente no subito categorie elevate oppure sei partito da con i calciatori posso dire che ho sempre lavorato con calciatori di pemeship o di serie A a volte ho lavorato anche diciamo facendo lo sgobbone ora non posso dire alla squadra perché se no mi sputtanerei e per una volta mi ricordo ero a Reggio Calabria nel senso che mi ricordo se era nel 2008 nel 2009 comunque c'era Regina Calcio che era in serie A ero lì per fare supervisioni di determinate cose mi ricordo c'era questo presidente mitico non so se Lillo Foti ora non so cosa facciano stanno sicuramente nel tesi nell'abbigliamento ma non credo nel calcio non ho idea della Regina Calcio dove sia adesso ma era stato un ambiente super ospitale questo senz'altro molto bello e mi ricordo che ero lì e mi ricevo una chiamata dall'Inghilterra mi dicono guarda ci sarebbe questo giocatore che ha questo problema ti va di dargli un occhio vi parlo di una delle top squadre al mondo nel senso e io ho detto certo assolutamente sono già qua in Inghilterra guardate sulla cartina dove è Calabria dove è quell'altra città di là sono già qui sono già qua esattamente sky scan però il flight non c'era direttamente la cosa non sarei mai potuto arrivare in tarda mattinata dall'altra parte allora mi ricordo che ho fatto un treno notturno seduto per dare giù Calabria a Milano sei di quelli proprio brutti seduti mi ricordo con degli impiantisti abruzzesi simpaticissimi che tra l'altro avevano un sacco di robe da mangiare grazie mille ragazzi siete stati i top player e arrivo in condizioni da prima classe no ma che prima classe era sì quando adesso viaggio in first in visit a volte dico ai miei collaboratori ragazzi guardate che io li ho fatti tutti nel senso che i treni mezzo li ho presi per tanti anni e arrivo a Milano arrivo in tempo da Londra prendo un altro treno per andare in un altro posto arrivo e mi dicono faccio quattro chiacchiere ah sì ma sai che oggi non non ha posto quella cosa però grazie che sei passato nel senso guarda ti faccio mi ha presentato due dirigenti due cose faccio ma scherzi posso dire tra vita stavo a mezz'ora da qua cioè ci ho messo mezz'ora ci mancherebbe anzi che bello che siamo ero qui dietro l'anno abbiamo preso un caffè e sono ritornato grazie queste cosine qua io le ho fatte tante volte allora mi dicono ma come hai lavorato nella serie A e basta oppure solo con giocatori sì per un motivo semplice io ho scelto di posizionarmi lì punto e basta e lì tu lo insegni quando vuoi qualcosa poi ottieni ma sì più che altro l'ignoranza quella cosa di cui abbiamo parlato prima nel senso che io ero un vero ignorante allora ho detto io farò quello e arrivo a quello punto e basta sotto non scendo molti dicevano sì ma devi fare la gavetta io la gavetta l'ho fatta tantissimo vuol dire che poi ho fatto un sacco questa è la gavetta questo è un piccolo episodio ne ho fatti molto molto peggio però la verità è che una cosa sull'altra sull'altra se sei veramente determinato la fai e poi da lì il salto è stato ok divento interessante anche per l'Italia per l'Olanda per altri posti ho cominciato a ritornare in Italia ho cominciato a fare formazione a fare azienda ti parlo di un Dario di 25 anni che faceva azienda anche nel senso non quindi ho cominciato a fare all-in rischiare quando non avevo niente e ho fatto tante cose diverse sono andato in quella linea prendendo quello che avevo quei professionisti che avevo quelle conoscenze di quel gruppo verticale ho cominciato a estenderlo ho imparato un modello di business ho cominciato a estenderlo e poi mi sono trovato nella condizione di dire ok sì ma questi noi diamo formazione facciamo pagare soldi una cosa che era fare formazione come era impari a livello tecnico e fai subito soldi vuol dire che io nell'anno 2009 ero abbastanza innovativo perché dicevo io ti insegno questo e ti insegno anche come fare soldi con questo cioè per me c'era una parte del corso 3-4 giorni di corso tecnico in cui io poi di domenica ti insegnavo skills competenze tecniche per portare quella cosa nel tuo studio nel tuo centro nel tuo ambito e fare soldi con quella cosa che aveva appena imparato non lo faceva nessuno bellissimo aumenta anche i prezzi ma stiamo parlando di qualche anno fa no? 2009 mi hai detto no? sì 2009 2009 lo facevo probabilmente già nel 2008 ma nel 2009 lo facevo al 100% ed ero già molto a mindset su quella cosa ho ancora delle dispense bruttissime graficamente ho scritto delle cose ad esempio il mio business plan sulla formazione mi ricordo ho scritto tra 24-25 anni poi l'ho riletto 12 anni dopo ho detto guarda che roba avevo ragione nel senso ovviamente limitato alle conoscenze che avevo io mi ricordo un commercialista lo dico spesso questa cosa che gli faccio questo business plan oh Dario non costa niente sognare e in quel momento ho detto quest'uomo è un coglione ho avuto l'illuminazione e ho detto si è educato Dario stai zitto non hai soldi non sei un cazzo ma tu lo sai che lui è torto quest'uomo è un coglione era un coglione anche perché quando vedi una persona puoi dare consigli puoi fare e allora grazie a quello ci sono uno di quelli che più ha preso pugni in faccia più mi hanno detto non si può fare è impossibile per me impossibile è proprio una cosa che grazie grazie quindi infatti quando le persone che intorno a me collaboratori e gente incomincia subito con le scuse gli alibi oppure ad esempio se io ho un collaboratore che mi dice prima cosa è difficile io faccio l'hai detto sul serio è difficile grazie al cazzo che difficile se no qua nessuno prendeva uno stipendio capisco perché sei qui stessa cosa noi facciamo la stessa cosa c'è un quote di là c'è scritto crea tempo non scuse tutte le volte che c'è una scusa tutti quanti qualcuno arriva con una scusa tutti quanti guarda là e si dira concordo totemica la cosa mi piace moltissimo però è così e allora quando vedo la gente che ho dovuto imparare mi pare che fosse l'anno 2012 che non tutti potevano migliorare è un mio rammarico perché io posso migliorare questo tu lo puoi dire oggi cioè non tutti possono migliorare perché qual è la differenza no ma perché se stai col freno a mano tirato discorso che dicevi prima non hai la benzina nel serbatoio e pensi che non esista la benzina è più concettuale a strato ti posso fare un esempio allora abbiamo un cliente una cliente che è sposata con un altro cliente la ragazza che fa la pornotrice mi dicevi sì proprio quella che è sposata anche le pornotrici si sveglia comunque questa cliente questa cliente è sposata con uno erano soci soci è ancora sposata con lui tutto posto posso dire bella cazzata già che ci siamo sì secondo me non lo so secondo me dipende però la vedo in modo molto soggettivo sulla cosa sposata erano soci e in questo caso era una cazzata perché perché noi controlliamo sempre il ppf delle persone il ppf sono obiettivi personali professionali finanziari cioè dove vuoi arrivare lei voleva spingere 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 lui no e tutte le volte che erano fermi a 250.000 euro divergenza esatto 250.000 euro l'anno da dieci anni dieci anni e lui stava per andare in pensione e dicevamo guarda che qui se lui riusciva ad andare in pensione con 250.000 euro all'anno è un grato player faceva tutto a nero esatto questo non mi ricordo ma ce l'ha mandato la moglie ce l'ha mandato comunque adesso ti spiego lui diceva nel mio mercato più di 250.000 non si può fare più di 250.000 non si può fare noi sappiamo che era così che non era così perché avevamo altri clienti tantissimi che fanno 2-3 milioni in quel mercato invece lei voleva spingere 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 non hanno comparto da noi per questo motivo dopo due anni questo qui è andato in pensione sua moglie ha detto finalmente mio marito non c'è più posso fare come cazzo mi pare in un anno hanno fatto un milione e mezzo dieci anni fermi e 250.000 perché lui dice non si può nel mio mercato non si può non si può non si può sua moglie in un anno ha fatto quello che lui non ha fatto in dieci anni quella cosa del fatto del credi a quello che dicono gli altri lo fai per gli altri lo fai con quelli che ti hanno detto che è impossibile e ci hai creduto esatto allora ci ascoltano persone ci vedono persone che sono di grande esperienza persone che invece stanno imparando se ti dicono che è impossibile se tu pensi che è impossibile incomincia passi lunghi e ben distesi e non ti fermare una delle cose che dico sempre non mollare un cazzo nel senso non è possibile se è quello che vuoi fare sì il problema è vero è che non sappiamo quello che vogliamo fare ormai siamo talmente condizionati che ti dicono cosa sei capace a fare di cosa hai paura un po' quello lo sai dire cosa sei scarso a fare sì cosa vuoi nella vita il perché no posso dirti Simon Sinek what's your why bello ma è troppo astratto sono quei discorsi belli ma che non ti aiutano io ho imparato ti posso dire Simon Sinek io ho letto i primi dieci dieci pasine mi sono rotto subito le palle ho chiuso subito istant'anno troppi giri di parole è quello che infatti esattamente sono allineato al cento per cento con questa cosa bello però quando mi dicono qual è il tuo perché sì è una cosa che già poi è una traslitterazione del what's your why che è diverso in inglese sì ma tu dimmi cosa vuoi ottenere nella vita andiamo sul pratico poi dimmi perché vuoi farlo ma cosa vuoi ottenere rendiamo tangibile perché lo fai per chi lo fai quanto c'è di te in quelle cose esatto perché se no what's your why tu puoi creare una cattedrale su preconcetti condizionamenti limiti e paure io ti devo prima dare una grande scossona a tutto quello che c'è sotto se no what's your why è un riflesso del falso mondo in cui stai vivendo chiaro chiaro sì noi come perché io come perché intendevo gli obiettivi professionali personali e finanziari cioè cosa vuoi a livello professionale personale e finanziario secondo me è quello che dà la felicità macro aria è totalmente diverso dal perché ma è totalmente diverso da quel perché perché se no quello diventa una cosa filosofica qui tu dici se uno non sa dove andare dove vado reagisco invece se so dove andare intanto già già sono la metà dell'occhio devi essere sicuro che quello che vuoi tu dove vuoi andare tu sia stato tuo a decidere perché in realtà quello è spesso un condizionamento voglio fare il commercialista voglio fare il dottore cosa fa tuo papà il commercialista cosa fa tuo papà il dottore tua mamma il dottore e tu veramente credi di volere fare quella si chiama sovraesposizione ambientale a determinati tipi di elementi condizionanti magari puoi farlo sarei bravissimo a farlo ma sei sicuro e senti tu sei uno che aumenta le performance ma in generale degli sportivi ma anche poi in generale insegna come farlo nei tuoi libri io cerco di risolvere problemi in realtà perché mi devo svelare questa cosa performance coach perché spesso io lavoro dove la performance non c'è più cioè tu grande atleta grande top decision maker all'interno di un'azienda succede qualcosa crisi chiamalo Dario Silvestri non è che dicono ehi siamo a performance 10 ci vorremmo diventare performance 12 ci dai una mano facciamo un po' di prevenzione insieme no ti dicono abbiamo un problema ma quando parli di prevenzione io faccio crisis management prevalentemente comunque servirebbe anche la prevenzione tu saresti utile anche nella prevenzione sarebbe essenziale potrebbe la potenzialità a un altro livello però giustamente è un fatto finanziario ti chiamano quando c'è un problema perché dobbiamo lavorare su dei problemi che non abbiamo anche se ad esempio ci sono dei casi ad esempio anche nel calcio adesso in cui se si fosse lavorato un po' più sulla prevenzione e il supporto ragazzi avremmo avuto meno problemi che diventano poi problemi globali chiaro e senti cosa fai quando prendi questa crisi ti chiamano per questa crisi metti una persona cosa fai con questa persona generalmente prima di tutto cerco di capire è come quando fai equity devi capire la vera rigidicità della situazione nel senso chi cosa dice come e quella persona in quale prospettiva ha un problema perché molte volte ti dicono che hanno un problema cioè il giocatore X ha un problema ma in realtà poi il giocatore ha un problema su un altro livello completo quindi dobbiamo prima di tutto mettere a nudo la verità e non si fa poi è molto difficile nell'ambito del calcio ma anche nell'ambito delle aziende non può ad esempio mi ricordo stavo parlando con questo top un imprenditorialmente top e mi fa era andato proprio a ruota libera stava mettendo fuoco problemico a un certo punto poi si blocca e fa però che cazzo vogliono io fatturo due miliardi e mezzo che cazzo ne sanno allora no zio stai tranquillo respira piano stavi andando bene lo so che due miliardi e mezzo e quindi nessuno ti può dire niente capito è molto complesso perché quando è una persona che gestisce due miliardi e mezzo all'anno è garantito che abbia talento capacità visione non l'ha ereditato anche perché se erediti una cosa dura un anno il secondo anno sei fottuto quindi parli di gente quindi devi portarli da un livello alto a un livello alto alto con le loro capacità facendo una gincana tra quelle che sono determinate ferite e quante altre cose io devo cercare di ottimizzare sviluppare e fare quella lock del potenziale ma non posso andare a pigiare tutti i punti dolorosi anche certo ad esempio parliamo di salute mentale io lavoro tantissimo e suggerisco tantissimo lavoro con psicoterapeuti psicologi psichiatri neurologi e neuropsichiatri quanto è necessario nel senso sono persone professionisti di grande competenza e che devono spesso accompagnare tutto un percorso che dura magari anni ok io mi occupo di fare funzionare meglio le cose andare a prendere degli elementi e farli ribaltare magari ribaltare dei paradigmi per farli trasformare cose eventi negativi però spesso un lavoro anche che viene fatto coordinando diverse sforzi perché molti mi dicono no no quello lo deve fare no psicologo deve essere ci deve fare un determinato lavoro ma lo psicologo deve fare un lavoro anche di grande etica di ontologia professionale io sono un cowboy su quello nel senso tu mi dici che vuoi raggiungere un risultato lo raggiungiamo poi dall'altra parte spesso c'è bisogno di altro chiaro e poi è sempre l'essere umano e senti a questo punto ti chiedo chi stai seguendo che si può dire si possono fare dei nomi che stai seguendo di persone conosciute guarda io questa cosa te la lancio sul è come dire su un sono diverse già l'imprenditorio non te li posso dire ma semplicemente cioè i grandi level no ma perché sarebbe la fine del mio rapporto professionale ho lavorato con veramente tanti calciatori molti sono noti e altri ci lavoro ci devo lavorare ovviamente sono situazioni sempre di crisi molto delicate quindi è molto complesso però facciamo una sorta di spin off ok ci inventiamo qualcosa per fare vedere qualcosa in più così ti do già un hook per la prossima sviluppo ok facciamo come dire uno spin off di questa puntata e dove quella che abbiamo deciso che faremo diciamo on the field perché dovete sapere che con il nostro circolo dei pelati c'è un club che voi non potete voi comuni capelluti non potete immaginare differentemente pelati però avremo modo di senti ti faccio la domanda che faccio un po' sempre a tutti visto che in Italia non la faccio comunque vuoi sapere la tua opinione perché la tua opinione sarà diversa dagli altri probabilmente o magari uguale non lo so però mi interessa molto e in Italia il problema comune i soldi i beni di lusso tabù tu cosa ne pensi dei beni di lusso un orologio un bello orologio Pighè mi piace anche a me diciamo che è quello che piaci di più a me mi piace tantissimo perché i beni di lusso perché i orologi perché no perché sì perché cosa ne pensi cosa vuoi dire agli italiani chi dice che in Italia esiste una vera e propria stigmatizzazione e serotipatizzazione del bene di lusso in termini del lo voglio lo desidero farei di tutto per averlo e dall'altra parte chi ce l'ha è un colpevole io ricordo nella mia infanzia qualcuno mi abbia detto chi è ricco è perché ha rubato qualcun altro ricordi o non lo ricordi me lo ricordo me l'ha detto mia madre ecco questo è stato l'unico insegnamento finanziario di mia madre quindi sono stato fortunato questa è il 99% certo infatti e quindi c'è una stigmatizzazione molto profonda del chi ce l'ha fatta e perché ha barato chi ha quello è perché è figlio di papà se non è figlio di papà e non ha barato è un criminale ha rubato e questa è una di quelle più sì chissà cosa c'è sotto e io dico sempre ragazzi partiamo da quelle fasi lì poi ti dicono perché una persona molto un mio mentore mi disse sempre ricordati che più vai su e più ti vedono piccolo ma è semplicemente un fatto di prospettiva perché non ti vedono vedono un puntino poi c'è una fase dopo che ti dicono mi dici come hai fatto mi insegni e mi dico posso pagarti per imparare a farlo ecco c'è un quote che noi diciamo sempre poi ti interrompo un attimo per colgarmi questo lavora così duramente finché i tuoi haters non ti chiederanno se stai assumendo certo se stai cercando bellissimo assolutamente questa cosa mi è successa più volte è successo anche ad alto livello non anche solo sull'assunzione ma sul sul fare business sul cercare di carpiro anche cercare di magari il vice di un'azienda cosa che cerca di diventare il vice mio nel senso pur di solo che la gente ha poca memoria è una cosa incredibile io ho una cosa che memoria la memoria purtroppo chi non ce l'ha è un problema deve cercare di esercitarla ma se ce l'avete vi aiuta molto anche non dire cazzate però quando parlavamo dei beni di lusso mi pare che dal tuo punto di vista del concetto di ricompensa io onestamente non sono nato ricco quindi non mi hanno regalato un Rolex quando avevo 18 anni non mi hanno regalato un Rolex quando mi sono laureato nessuno di quelli che abbiamo intervistato che hanno sono venuto con un'onore di lusso e mi hanno detto che quando avevano 18 anni gli hanno regalato un Rolex esatto quindi diventa un pochino una sorta di mi piace lo compro perché mi piace lo compro perché non impatta sulla mia economia ecco una cosa molto importante sui beni di lusso non deve impattare sulla tua economia se invece tu costruisci una sorta di sovrastruttura fatta di beni di lusso che sono il tuo asset stai perdendo stai perdendo soltanto che questo è un mondo e quanti lo fanno secondo te ma molti molti nell'ambito io non faccio parte di quell'ambito dei social però moltissimo ma anche nella vita reale c'è tanta gente che fa un pochino di sai fake it until you do it sì ma non dell'orologio piuttosto che la verità è che a volte però ho visto per essere accettato in determinati ambienti devi avere degli elementi costitutivi e di riferimento finché tu sei realmente accettato il riferimento e li puoi andare in ciabatte ma non di luci che vuol dire che adesso stanno cambiando i trend chi andava in giro con la Lamborghini piuttosto che in maniera molto pugni in faccia non è più tanto uno status symbol ma anche perché si stava globalizzando tu vai a Dubai la Lamborghini Urus è l'auto media si va a Jumeirah Beach più o meno e infatti qual è lo status a Dubai perché molti non lo sanno Rolls Royce no no niente no che numero è la targa ok chi è ricco per davvero e fa parte della famiglia reale ha i numeri bassi è un po' quello che quindi chi ha la macchina numero 17 12 loro c'hanno i soldi per davvero anche se una 1 è uguale cioè la gente si prosa quando vede certi numeri sulla una volta ho sentito Gary V no Gary V lo conosci sicuramente Gary Vayner guarda vi devo fare una sorpresa Gary V è qua esci vieni qua tira su certo certo che lo conosco Gary V assolutamente Gary V è uno dei più grandi Wine Library questo è stato un po' da parte tua se lo conoscevo era stato un po' vabbè era per dire chi è che non lo conosce ma io conosco anche suo cugino conosco molto bene Viner Media è un esempio secondo me già è secondo prima era è stato il primo il più innovativo il più incredibile mi piace dice le cose sulla lingua che è quella che pensa a noi smooth delivery pam 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 mi piace moltissimo è già secondo però anche in quell'ambito lì poi scoprirete che c'è già qualcuno che l'ha superato e si può dire chi è? no ve ne accorgerete nel senso comunque una cosa bella che ho sentito dire da lui una volta io non lo seguo molto insomma vedo ogni tanto ha detto il modo di fare no? guarda dovrebbe essere che tutti quanti vanno in giro con una maglietta con uno scritto quanto ci hanno nel conto in banca allora smetto di comprare cazzate per far vedere che c'hanno i soldi fantastico e questa è la targa che tu dicevi mi ha fatto pensare se volete copiare i post di qualcuno copiate sempre quelli di Gary V perché sono il primo a fare certe cose perché si dà sempre il tono infatti una volta infatti c'era una azienda di ragazzi anche bravissimi che poi non abbiamo lavorato insieme sono bravi secondo me sono molto bravi soprattutto a gestire le risorse umane abbiamo fatto un setup di prova di alcuni post su Instagram e ho detto questo è Gary V due mesi fa questo Gary V sette mesi fa cazzo ragazzi dai Gary V ha molto più in là adesso e ci sta assolutamente lui mi piace mi piace la gente che parla dritto per dritto e per fortuna o non so perché sono targettizzato per quello ne trovo sempre di più però comunque il trend non sarà più la ricchezza in quel senso ma siamo per ritornare a un certo tipo di nudità e basicità essenziale in cui diciamo saranno alti gli altri elementi saranno anche più digitalizzati sono d'accordo gli elementi della ricchezza quindi secondo me l'orologio che è il gioiello dell'uomo è già una roba ci sarà un altro passaggio a chi si occupa di lusso ascoltatemi adesso arriveranno molto di più i gioielli da uomo gioielli in senso di gioielli un po' Cartier è iniziato diamanti ma non quelli diciamo pimpati da re perché è fighissimo ma quindi si passerà dall'orologio ai gioielli anche perché la bolla dell'orologio è scoppiata quindi si passa a un altro girone infernale poi le macchine ci sarà la svolta sulla sostenibilità poi ci sarà e comunque si arriverà ad andare molto più in bicicletta ad andare a piede a usare determinate cose e però lì elementi distintivi di ricchezza ci saranno saranno soltanto diversi certo però sta per cambiare quindi non vi sto dicendo di non comprarvi più orologi ma non faranno diciamo se ti piace io come perché anch'io perché mi piace non per investimento non mi affrega niente di quello come te perché mi piace lo posso fare non incide non incide più che altro la possibilità di mi piace lo metto se si graffia si graffia esatto delle botte a volte che dico questa botta mi è costata 12.000 euro di cinturino mi ricordo la prima volta che ho comprato la macchina quando non me la potevo permettere la mito del 2009 ogni piccola graffiatura sono particolari quelli che hanno la mito ed ho sempre visto particolari un po' particolari io sono un amante di One Piece l'anime chi ha la D il mio barbiere c'è tutta la cosa tu sei un Mr. D tra l'altro sono un Mr. D e senti ti faccio un'altra domanda prima di chiudere un altro paio di domande intanto quanti collaboratori hai? il fatturato si può dire tu no perché non puoi dirlo ho speso talmente tanti anni nel cercare di qua c'è l'immagine Dario Sinvesti qua ci sono le aziende qua ci sono gli investimenti e non ho mai detto ho fatto perché poi ci sono quei test di cazzo che dicono numeri a cazzo e quelli dovete spottanare perché onestamente sono quei test di cazzo che dicono io ho fatto un milione al giorno io non ho mai detto una cifra cerco di fare parlare i risultati in certi ambienti la gente lo sa ma in tanti ambienti io preferisco anche che le cose rimangano riservate perché non sono importante io necessariamente nelle mie aziende punto di vista strategico sì ma dal punto di vista poi formale operativo e finanziario molte volte non sono proprio io interessante la mia immagine è zero molti infatti mi dicevano qualche anno devi mettere tutto nella tua immagine io ho il mio personal branding sono io sono io mi dà la possibilità di comunicare e comunicare senza filtri anche la possibilità di non essere pagato per mettermi qualcosa per dire qualcosa infatti sono molto libero su questo punto di vista questa cosa mi piace molto e lo trovo un lusso invece vedo di gente che deve fare quello per forza ma sapete quante volte mi chiedono di fare marchette in termini di aziende tante perché sono poi aziende anche verticali su certe cose in cui potresti raramente rispondo rispondiamo per cortesia per educazione ma non oppure il podcast a me piace molto il podcast io ho un podcast da 250 puntate da 2019 che ha migliaia di download decine di migliaia più di un milione e mezzo di download cioè nel senso eppure perché non lo monetizzi perché sono cazzi miei ragazzi sarò libero di prendere le persone e invitare le persone che voglio di dire quello che voglio e poi la verità è che perché io la mia missione sono al servizio vostro per darvi un risultato e per darvi uno strumento e lasciatemi questa self therapy questa autoterapia del podcast che deve essere qualcosa di utile cerchiamo di lasciare un testamento positivo nelle cose non soltanto e quello è il discorso della reciprocità chi crede veramente che io faccio questo e dall'altra parte ti do questo e tu mi devi dare questo in questa unità di tempo e se non lo faccio un problema non funziona così in modo tu dai perché vuoi dare poi torna indietro non oggi non domani non da quella persona tranquille e il karma esiste sono d'accordo sono d'accordo 100% e io la chiamo abbondanza karma ci sono tanti modi di comunicarlo anche se l'abbondanza per me anche la legge dell'attrazione per me non è legge dell'attrazione è legge di coerenza a me fa cagare la denominazione della legge dell'attrazione sembra magia ma no ma è giusto noi siamo c'è un'energia sottili molto importante ma io ho visto gente mettersi lì a non fare un cazzo e visualizzare voglio quello voglio quello non è successo se li vedi lo scheletro dopo 40 anni che ancora lì sempre che in modeling ad esempio la gente rifà le persone lì fanno anche altro sono instancabili hanno preso dei rischi incredibili hanno dovuto spesso rompere con amici famiglie hanno fatto delle cose che gli altri non avevano paura di fare e quelle però come fai a fare tutti i giorni quelle cose e in tutto quello fanno in più quella cosa lì cioè nel senso non è che fanno solo quello scopri il tuo talento scopri il tuo potenziale scoprire il potenziale delle persone io quando la gente intorno a me diventa ricca quando la gente intorno a me diventa capace competente sta meglio a me a gasa perché il miglioramento è contagioso per esempio io una volta avevo visto il parcheggio dei miei collaboratori di una delle mie sedi io mi ricordo le auto di merda che avevano cominciamo a vedere le auto che costavano ragazzi siete forti complimenti certo cioè bello c'è una crescita tu puoi pensare mica di arricchirti tu e che non crescano gli altri questo non esiste c'è d'accordo proprio citando john maxwell una delle leggi della leadership è che a un certo punto quando sei tu leader va bene finché sei da solo ma poi per avere successo vuol dire che devi rendere semplice il successo degli altri devi interessarti agli altri automaticamente tu hai il tuo successo qualunque cosa sia chiaramente se vai verso quella parte non posso dire niente di diverso e senti quanti collaboratori hai visto che hai parlato di collaboratori sono è un gioco diciamo 250 collaboratori stretti o mille come cerchia generale 50 complimenti complimenti veramente dai lavoro a mille persone diciamo magari non in maniera univoca nel senso che sono persone che fanno anche altre attività direttamente indirettamente diciamo che su quei 250 abbiamo un impatto molto importante su altri magari costituiamo il 10 15 20 30 alcuni 50% del loro turnover questo senz'altro e avete la sede a Torino anche perché noi abbiamo tanti docenti quindi fanno un'attività parziale a volte però a volte abbiamo anche gli stessi su altri indotti chiaro chiaro senti ti faccio ho fatto questa domanda per far capire anche cosa c'è dietro adesso c'è un uomo anche se vai su ciò non si vede molto è molto come hai detto tu improntato su di te questa è la tua scelta ma è per riservatezza anche non troverai praticamente mai foto di mia figlia o video così familiari mia moglie non so se tu condividi la tua famiglia io sì la penso in modo diverso ma chiaramente ognuno ha la sua linea probabilmente non l'ho fatto perché sono molto riservato cioè è una cosa che amo rispetto è una cosa come dire non mi piace neanche dare troppe però comunico tanto qualcosa che può essere messo a servizio degli altri questo per me è fondamentale e l'ho visto ho visto qualche reel una più volte e ho visto cavolo questo qui la penso esattamente che siamo molto allineati e a volte mi dicono a volte mi scrivono delle stronzate sotto i social del ah tutte bagianze io ho sul sito posso dire il sito www.dareosivesti.com devi dire il sito anzi no ma www.dareosivesti.com sopra c'è anche un canale di tele ma sopra quella roba lì ci sono quasi 300 articoli gratis a volte questi passano nelle advertise e la gente dice truffa ma che cazzo sta vendendo cioè nel senso ragazzi sono condivisione gratuita e non ti sto vendendo un cazzo sì sì e ho visto una cosa ad esempio parliamo del tuo anche mondo tecnico io spendo tantissimo comunque nei social in termini invece poi per il punto di vista imprenditoriale facebook e instagram facebook e la polarizzazione instagram e il wireismo gilly generation facebook e google nel senso che ho visto una cosa che non funziona per me più è solo google è solo facebook una considerazione molto importante ormai è il retargeting incrociato li prendi da una parte li pixelli dall'altro li incroci dall'altro e quindi un blend l'ognipresenza assolutamente sì multicanale sempre però su facebook la gente è sempre incazzata sono d'accordo io ho smesso di postare su facebook robe mie personali anche sul mio coso personale nel 2021 nel 2022 perché mi sono potenzialmente rotto i coglioni nel mio ultimo post nel mio facebook personale quello fatto nel 2008 è una fotografia a bordo campo alle atp finals dall'inpo non credo di avere grande più interesse quando invece posso quasi quotidianamente real e quant'altro io posso praticamente solo real ed è incazzata perché ormai l'algoritmo lavora sulla polarizzazione e la polarizzazione tira invece questo è molto interessante infatti se tu vai su facebook vanno molto quegli articoli delle testate giornalistiche io faccio sempre nomi ma ce ne sono tanti ce ne sono tanti che fanno tutte le stesse cose dove ci sono quei articoli di clickbait di merda parliamoci chiaro perché ragazzi chi scrive quegli articoli vi chiamate giornalisti vogliamo spiegare come un clickbait clickbait scrivi un articolo la moglie di da 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 ha detto questo quando la e poi apri è tutta una stronzata invece ti dicono un'altra cosa quindi lavorano su quello perché sanno che le persone lì sono da millennial in sui sono millennial quindi lo dico e sono quelli più frustrati più frustrati in assoluto ma io ti ho chiesto di spiegare cos'era un clickbait perché a volte c'è proprio poca consapevolezza e poca informazione a volte diciamo noi che io volente o nolente ho dovuto imparare tanto del tecnicismo del marketing digitale non solo anche quello strategico perché per capire chi può fare marketing bene devi diventare un esperto di marketing ed è assurdo però ok e poi perché dal punto di vista dell'eziologia strategica cioè da dove inizia la cosa devi sapere dove vanno le cose quindi devi avere responsabilità anche su quello dall'altra parte bait vuol dire esca in inglese quindi pescano il click e che andrebbe bene se dietro poi sei coerente con quello che hai detto poi invece entri e sono tutte cavolate e ti vogliono vendere una pirofila cinese di solito trovi le cure per l'emorrodi come inserzioni e roba del genere tu lo facevi con dropshipping da bambino no non l'ho mai fatto dropshipping non l'ho mai fatto dimmi una cagata che hai fatto io le cagate ne ho fatte tante quelle non illegali non posso quelle illegali non avrei mai detto no scherzo illegali non ho mai fatto niente veramente ma ho provato a vendere e lo racconto sempre è nata da lì la mia cosa nel marketing ho provato a vendere delle proteine per palestra quando facevo il developer e non so perché cazzo ho venduto delle proteine per palestra mentre facevo il developer potevo vendere applicazioni mobile ok e ho fatto questa questa singola ho creato questo nuovo proteina per palestra hai preso una white label white label è un marchio che fa un'altra azienda che tu ci piace però l'ho modificato modificato un po' perché io volevo che siccome il mio personal trainer mi diceva sempre che doveva il valore biologico doveva essere grande altissimo altissimo era il 2002 quasi allora ho lavorato con questa azienda belga white label che comunque aveva un buon prodotto e io ho detto voglio un il più alto valore biologico che voi possate fare potete del nuovo esatto e mi hanno detto guarda noi il più alto che abbiamo 157 quindi l'ho chiamata pro way 157 l'ho chiamata ok e da lì ho fatto quest'ordine con quei pochi spicci che avevo avevo 7000 euro all'epoca mi sembra li ho buttati tutti lì non ho venuto un cavolo e poi dopo ho studiato il marketing per vendere l'applicazione mobile e il resto poi ho capito come si vendeva e un po' ne ho vendute ancora un po' ne ho lì scadute chiaramente puoi cambiare si cambio white label le vendo scadute e va bene allora prima di chiudere questa è una super intervista intanto non vedo l'ora di leggere questo libro perché mi piace molto grazie ti terei qui altre due ore e io leggerò il tuo assolutamente quello lo stiamo anche riaggiornando ne stiamo scrivendo altri due quindi mi direi tu quelle devo leggere puoi leggere questo ma ti le manderò agli altri che sono ancora più interessanti questo comunque ne abbiamo vendute quasi una ventimila copie mi sembra nel corso degli ultimi cinque o sei anni quindi non è in pochissimo tempo ma ti chiedo ti chiedo perché questa è una cosa importantissima e lo chiedo sempre a tutti ma te la faccio comunque certo cosa vuol dire per te far parte dello 0,001% per chiudere come abbiamo iniziato più che altro avere una visione sempre più chiara non darsi una scusa neanche all'anno neanche una possibilità di predicare bene e razzolare bene non razzolare male cercare di avere risultati indipendentemente dalle condizioni del mercato di più meglio e ad esempio una cosa che ti dico è lo cerco di condividere i miei collaboratori un prodotto non è per sempre un'attività non è per sempre quello che faccio tra cinque anni devo saperlo già adesso quindi vuol dire che io per almeno due o tre anni questo a volte mi guardo nei collaboratori dice ma perché stai facendo questa cosa perché stiamo facendo perché impegniamo tante risorse per due anni poi succede che al terzo anno boom incomincia a funzionare tutto adesso e dall'altra parte sfuma ah cavolo meno male che l'abbiamo fatto in tempo grazie al cazzo quindi devi avere questo per dire devi avere visione e responsabilità nei confronti di chi non ha ancora la possibilità di vedere ma devi cercare di far sì che anche loro vedano e quindi devi fare migliorare gli altri quindi se tu sei lo 0,01 forse sarebbe figo che poi fossi lo 0,01 perché si sono aggiunte altre persone e poi lo 0,01 perché se ne sono aggiunte altre grazie a te anche bellissimo un'altra super definizione Dario è stata una super intervista come già mi aspettavo e sapevo anche perché abbiamo parlato quasi mezz'ora prima di iniziare il podcast quindi però per piacere per piacere assolutamente e sicuramente faremo hai lanciato lo spoiler hai lanciato insomma ci saranno spinotti ci saranno tante cose che faremo sicuramente prendetevi il libro se non l'avete fatto ma se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale iscrivetevi alla piattaforma siamo su tutte le piattaforme mettete una valutazione mettete 20.000 stelle per Dario anche per me insomma siamo due pelati stesso look voglio dire insomma